Roxana Malinowski, compagna dell'eroe di questa sera contro il Milan, immagino siate felicissimi. Sì, certo, sono molto felice perché anche ieri io pensavo che Russell non giocherà perché aveva il problema muscolare. Ieri è andato a Milano a fare ecografia e mi diceva che magari non giocherà. È stata sorpresa che è giocato, che è passato il dolore e per me è molto importante che è segnato perché Milan è una squadra contro chi lui non ha ancora segnato. Quindi certo che anche per lui credo è molto importante, per i tifosi, per la squadra. Certo peccato che è un pareggio, però meno male che è segnato e tutti sono contenti. Penso che la partita è stata dura e il risultato è giusto. I tifosi però si stanno chiedendo se Ruslan rimarrà a Bergamo o no? Cosa ci puoi dire riguardo? Sì, io come la moglie non posso dire perché anche io come tutti i tifosi ancora non so niente. Quindi dobbiamo aspettare e vedere perché la situazione non dipende di me. Io come tutti aspetto e vediamo. Comunque voi sperate di rimanere qui? Ma certo, il Bergamo è la nostra casa e rimaniamo di sicuro perché c'è la nostra famiglia, c'è il lavoro, ci sono i nostri amici, però per il calcio è sempre molto difficile. Sì, io sempre spero nel mio cuore, però non tutto dipende di me. Ultima cosa, sentivo prima che parlavi di un massaggio che hai fatto a Ruslan miracoloso. Eh sì, questo problema muscolare che ha fatto, aveva dolore e io ho provato a fare il massaggio per oggi per giocare di sicuro perché io volevo molto che lui giochi. Quindi ho fatto un po' aiutarlo, diciamo così. Ha funzionato, è stato magico. È funzionato, guarda, sì sì, è funzionato molto bene. Grazie.